Selezioni il nodo per la stampa della valutazione del rischio. Avvii la composizione. Nel documento sono riportati i riferimenti normativi alla base della valutazione. È indicata la metodologia per la valutazione rapida del rischio. E la metodologia per la valutazione approfondita. In tabella, per ciascuna mansione, è riportato l'esito della valutazione. A seguire sono riportate le schede di valutazione. Nel caso della valutazione rapida di un compito singolo, è indicato l'esito e la fascia. A seguire sono riportate le risposte fornite nella checklist della valutazione. Nel caso in cui la valutazione del compito singolo è proseguita con la valutazione approfondita. Hai anche il dettaglio dei dati messi nella valutazione approfondita. Nel caso della valutazione di un compito composito, in tabella è indicata la massa. Per il compito composito è riportato l'indice di sollevamento composito. È riportata la fascia di rischio. Per ciascun sottocompito, hai il dettaglio dei dati messi nella valutazione.